buongiorno a tutti allora proseguiamo con le schedine e bollettine del gigione con il campionato spagnolo quindi bando alle ciance ciance alle bande partiamo subito con espagnol granada 1x per i più coraggiosi 1 celta vigo barcellona x2 eccola qua la partita da aiuta aiuta arriva il lupo alaves levante 1 2 real madrid rajo vallecano 1 villa real getafe 1 valencia atletico madrid x2 mallorca elce 1x osasunia real sociedad altra partita da aiuta aiuta arriva al lupo poi c'è di mezzo la zasunia quindi 1 2 anche qui e concludiamo con il derby di siviglia betis contro siviglia quindi betis siviglia siviglia allora ero stavo pensando di giocare l'x fisso poi ho deciso di dare fiducia al siviglia non al betis ma al siviglia quindi ho messo x2 doppia chance proseguiamo con la schedina alternativa l'espagnol granada over 1 e mezzo celta vigo barcellona over 1 e mezzo alaves levante a mio rischissimo pericolo gol real madrid rajo vallecano over 2 e mezzo villa real getafe over 1 e mezzo valencia atletico madrid ero incerto tra il gol e l'over 1 e mezzo certo l'over 1 e mezzo mallorca elce over 1 e mezzo osasunia real sociedad gol e betis siviglia siviglia gol perché signori è un derbone da libidine e quindi mi aspetto tanti 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 gol andiamo a vedere il gigione che partita ha scelto per la sua bollettina anzi per le sue sei bollette ho scelto espagnol granada villa real getafe valencia atletico madrid e mallorca elce quindi partiamo subito con la bollettina delle fisse espagnol granada 1 villa real getafe 1 valencia atletico madrid 2 mallorca elce 1 con 5 euro se ne vincono 55,46 come dico sempre consiglio una o due doppie voi che potete io col fatto che devo fare la bolletta delle fisse non posso proseguiamo con la bollettina numero 2 espagnol granada multigol casa 1 3 villa real getafe multigol casa 2 4 valencia atletico madrid multigol ospite 1 3 mallorca elce multigol casa 1 3 con 5 euro se ne vincono 21,33 bollettina number 3 bollettina number 3 espagnol granada 1 is piovero villa real getafe 1 is piovero valencia atletico madrid is 2 piovero mallorca elce 1 is piovero ricordandovi sempre che gli over sono sempre over 1 e mezzo vi dico che con 5 euro se ne vincono 35,58 indi per cui non faccio alternative perché già paga sette volte la posta e la giocherei così com'è ho una gran paura che qualche over non esca però sono fiducioso e quindi quando uno è fiducioso è fiducioso punto non c'è bisogno di aggiungere altro bollettina numero 4 che a me fa libidine espagnol granada gol ospite villa real getafe gol ospite valencia atletico madrid gol casa mallorca elce gol ospite con 5 euro se ne vincono 33,97 ma attenzione perché il gol del getafe in casa del villa real non è favorito indi per cui attenzione alla grande legge della squadra che non è favorita a fare gol che non solo segna ma va pure a vincere in trasferta diciamo che c'è un 20 per cento secondo sempre le teriogigioniche le teriogigioniche è fantastico per cui il getafe potrebbe non segnare c'è un 30 per cento per cui il getafe potrebbe segnare ma non vincere quindi o perdere o pareggiare no che potrebbe vincere scusate un 30 per cento che potrebbe addirittura andare a vincere in casa del villa real un 30 per cento quindi 20 per cento che non segni 30 per cento che segni ma non vinca 30 per cento che vinca ecco punto e ci fermiamo qua e 50 per cento che faccia gol però non segni cioè non snebolano non vinca ma pareggi al massimo ecco spero che ho fatto giù un pop rebelò però speriamo che ci siamo capiti quindi 20 per cento non segna 30 per cento segna eppure vince in trasferta con super sorpresa 50 per cento segna il suo gol della bandiera oppure segna il gol del pareggio ma non va oltre pareggio sconfitta però fa gol detto questo possiamo andare alla bollettina numero 5 bollettina numero 5 molto negativa io vi consiglio di giocarvi solo due euro non giocarla perché è veramente molto molto improbabile che questa bolletta esca però io ve la dico lo stesso poi al massimo fate l'opposto e lo portate a casa pagherà Anna Beata Giovanna però qualcosa pagherà sicuramente Espanyol Granada gol piover Villarreal Getafe gol piover Valencia Atletico Madrid gol piover Mallorca Elche gol piover con 5 euro se ne vincono 304,88 come vi dico sempre se volete giocarla giocatevi 2 euro ne portareste a casa 120 120 è difficile però se dovete tentare se no non giocate o se no giocate tutti i gol più anda tutte quattro pagherà pochissimo pagherà 50 euro 60 70 euro quello che è però ci sono molte più probabilità che possano uscire dei gol più anda secondo sempre i boommaker poi tenendo conto che fanno quello che vogliono quindi non vuol dire io con queste bollettine l'anno scorso su un campionato inglese ho preso più di 800 euro con l'uno più gol due più gol eccetera eccetera quindi non vuol dire nulla facciamo l'ultima bollettina Espanyol Granada 1 più gol Villarreal Getafe 1 più gol Valencia Atletico Madrid 2 più gol Mallorca Elche 1 più gol attenzione al botto perché con 2 euro se ne vincono 934 virgola 68 con 5 euro 2336 virgola 70 quindi avrete già capito che tutte e quattro le partite di uno più gol non sono favoriti i gol indi per cui bolletta alternativa Espanyol Granada 1 più 1 gol Villarreal Getafe 1 più 1 gol Valencia Atletico Madrid 2 più 1 gol per forza Mallorca Elche 1 più 1 gol con 2 euro se ne vincono 92 virgola 08 con 5 euro 230 virgola 20 quindi cifre comunque interessanti per delle quote che teoricamente sono un po' più facili che possano uscire rispetto ai gol ripeto la quinta e sesta bollettina se proprio per sfizio le volete giocare giocatevi 2 euro le altre sono più giocabili al massimo se non siete contenti degli over 1 e mezzo volete mettere degli under 3 e mezzo è a vostra discrezione io sinceramente paio di gollettini a partita ce li vedo poi bisognerà vedere se segnano tutte e due le squadre se segna solo una squadra eccetera eccetera però paio di gollettini in ogni partita ce li vedo bene detto questo vi saluto vi ringrazio vado a fare il campionato italiano che so che lo state aspettando con ansia poi farò quello tedesco e quello francese ciao 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 ciao